Io non uso quasi mai la parola sostenibilità, credo che sia più un discorso di responsabilità. La moda ha la sua bellezza e anche i suoi lati un po' oscuri e poi prende possesso di parole come sostenibilità, poi realmente nessuno poi sa il vero significato di sostenibilità. Quindi credo che si debba essere molto attenti, bisogna spiegarla bene, bisogna essere chiari e sicuramente il problema del greenwashing c'è, ci sarà sempre. E questo però deve essere sia i media che i brand, essere comunque onesti e chiari su quello che sta succedendo e anche noi come consumatori essere curiosi e voler essere comunque responsabili e quindi anche pretendere di comprare delle cose che siano responsabili o comunque di essere consci di quello che si compra.